Siamo? Partiti! Non coglie un buon break il favorito personal approach dal gruppo invece parte molto bene l'outsider Bijou Bijou seguito dall'altro outsider Fringe Science al terzo Deeper Maut a largo Superdani che in breve avanza e si porta secondo quinto invece Simpli Jonathan a precedere il compagno di training Arcisate e poi a largo personal approach insieme a Duboldo nelle posizioni di retroguardia Bijou Bijou dopo la frazione iniziale cadenza seguito da Fringe Science in giubba verde scura con le maniche bianche al suo fianco galoppa con la giubba scacchi verdi arancio Superdani all'esterno in quarta corsia personal approach seguito da Simpli Jonathan col cap blue al suo interno in giallo nero Deeper Mouth di fuori in giubba beige galoppa Uboldo che lascia in coda contatto Arcisate un gruppo comunque ben raccolto quello che è interretta d'arrivo personal approach si prepara già in corsia larga andando su Superdani che a sua volta si presenta su Bijou Bijou seconda linea per Deeper Mouth e Simpli Jonathan di fuori a tutti Uboldo poi Arcisate e Fringe Science per vie interne si presentano in due su Bijou Bijou che comunque rimane ancora in quota i 400 anche se adesso Superdani e personal approach attaccano in maniera chiara soprattutto personal approach che prende margine su Superdani e lo stesso Bijou Bijou gli altri più dietro adesso all'ultimo farlong personal approach che allunga Bijou Bijou e Superdani che comunque non mollano la presa poi ancora Deeper Mouth personal approach che se ne va da Superdani, Bijou Bijou, Deeper Mouth e Arcisate personal che conclude su Superdani, Bijou Bijou missione compiuta dunque per questo new approach della scuderia FV Fabio Branca per il signor Stefano Botti al training piano Stefano Botti al training pren mathematicsебro e quindi Grazie.